Siamo partiti con questa iniziativa per cercare di salvaguardare questa struttura, che è il poloambulatorio di Scalea, che purtroppo per una serie di vicissitudini rischiamo una possibile chiusura. C'è stato un controllo dei vigili del fuoco che hanno constatato che l'impianto antingendio non è a norma, ma nel passare del tempo si sono aggiunti ulteriori problemi, tra cui c'è un problema al tetto che determina infiltrazioni dell'acqua piovana, rendendo la struttura a rischio. Inoltre uno dei reparti, uno dei locali destinati al SERT, al Servizio per le Emergenze Patologiche, è stato già dichiarato inagibile. Da cittadini non potevamo rimanere inermi, non potevamo rimanere a guardare quest'ulteriore danno che la nostra sanità, già disagiata, già che non garantisce a noi cittadini dei servizi adeguati, rischiare di mettere un'altra struttura come questa, efficiente, che fornisce servizi sanitari, assistenziali, di laboratorio, con personale qualificato e eccellenze, a rischio. Noi non lo possiamo permettere. Per questa è l'iniziativa di cui io mi porto portavoce, di fare una raccolta di firme, non solo su Scalea, ma sull'intero territorio ricoperto da questo servizio, dal poloambulatorio di Scalea, per cercare di far smuovere le coscienze dei cittadini e di far sentire la nostra voce dal basso. Quindi stiamo costituendo un gomitato apolitico, ripeto, apolitico, senza alcuna finalità politica, senza alcuno scopo elettoralistico, ma solo per la tutela di un nostro bene e della tutela del diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, ma che ancora oggi per noi cittadini dell'Alto Tirreno e Cosentino risulta messere a rischio. Per questo motivo chiedo la collaborazione di chi ritiene di impegnarsi in questa campagna di sensibilizzazione per portare avanti questa iniziativa per il territorio e non per altri obiettivi.